Una nuova rubrica multimediale sulle attività dello sportello per l'Europa del Comune di Cosenza partirà a breve in collaborazione tra la web tv del Comune e l'emittente Tele Europa Network, un progetto di formazione in formazione alla cittadinanza sulle tematiche europee. Nella strategia complessiva di funzionamento e della missione dello sportello Europa che il Comune di Cosenza come li sa gestisce, esiste questo vincolo opportunità di aprirsi alla collaborazione con i media per definire processi di formazione in formazione alla cittadinanza rispetto alle tematiche europee. Così, d'accordo con il gruppo di TEN Tele Europa, abbiamo pensato di avviare questa campagna di collaborazione. Il risultato è appunto questo prodotto, questa rubrica che andrà in coda all'informazione di Tele Europa con una frequenza appunto almeno mensile. Poi ovviamente verificheremo di volta in volta, anche in funzione di eventuali novità, emergenze, situazioni particolari rispetto alle quali l'Europa è ovviamente in prima fila, di definire dei numeri speciali. Quello che è importante cogliere è che vogliamo dare alla cittadinanza, agli utenti delle emittenti televisive di TEN in particolare in questo caso, la possibilità di fruire di un prodotto che ha una natura doppia formativa da un certo punto di vista e informativa soprattutto. Formativa perché rispetto alle nuove generazioni ci poniamo il problema di trasferire i concetti più importanti del significato dell'Europa. Informativa perché ovviamente rispetto alle tante opportunità di tipo finanziario ed istituzionale che l'Europa comunque offre al nostro territorio, è opportuno che la città, gli utenti, gli ordini professionali, gli stakeholder, le forze sociali, tutte siano informate delle opportunità presenti. E questo credo faccia parte di un'attività di un comune e segnatamente il comune di Cosenza.